Dottor Galli, Comoleik 2023, cosa ha voluto rimarcare nel suo intervento di questa mattina? Il ruolo delle infrastrutture. InWit e l'importanza delle infrastrutture nella trasformazione digitale. InWit è un operatore di infrastrutture che realizza le infrastrutture passive per gli operatori di telecomunicazione. La digitalizzazione e lo sviluppo del 5G richiede forti investimenti di infrastrutturazione e questo è quello che è importante per il Paese e per gli operatori di telecomunicazione. Andare veloci, continuare a investire. Su cosa state puntando principalmente in questo momento? Noi lavoriamo sulle coperture outdoor attraverso le torri per quanto riguarda appunto il 5G outdoor e anche per quanto riguarda le coperture indoor sulla tecnologia DAS per portare una migliore copertura all'interno delle location chiuse. Con la vostra presenza qui avete voluto sottolineare qualcosa di particolare? Avete voluto rimarcare qualcosa di particolare? L'efficienza che infrastrutture digitali condivise come quelle che fa e vende InWit è un elemento importante per creare efficienza nel sistema e quindi dare un piccolo contributo all'aumento, al miglioramento dei ritorni di tutta la filiera. Quella di questa mattina è stata un'importante occasione di incontro. Quanto è fondamentale organizzare eventi come Comoleic 2023? Sono importanti eventi di scambio e di condivisione di diversi punti di vista. L'industria in particolare delle telecomunicazioni in Italia è in una fase di trasformazione. C'è un tema oggettivo di ritorni degli investimenti. Quindi confrontarsi per capire come aumentare il ritorno degli investimenti di breve e lungo termine attraverso tutta la filiera è un punto molto importante. Quindi averne potuto discutere oggi è un modo per trovare delle soluzioni.